Vi posso dire che quello di ieri, perché questo appunto sono due sessioni sugli idrosociali, ieri abbiamo fatto la sessione 1, oggi la 2, quindi è una nicchia, è una nicchia questa degli studi idrosociali, tra l'altro con una terminologia presa a prestito dai geografi, e in Italia è poco sviluppata, io mi sono preso proprio come missione, come ossessione quella di incrementare questi studi sociopolitici sull'acqua, la gestione dell'acqua, i fiumi, e quindi ho sollecitato anche un po' di colleghi, sono uscite due sessioni, è già tanto per un convegno nazionale come questo, ovviamente ci sono sessioni, ad esempio quella sull'ecologia politica, che è un tema molto vasto e molto generale, e quindi hanno più partecipanti, però qui è il solito gioco secondo me fra la specializzazione e la capacità di usare delle calorie generali, cioè io se ho dei robusti framework generali li applico all'acqua come all'energia, come alle relazioni sindacali, eccetera. Quindi un po' per noi studiosi vale molto la potenza del framework e la sua aderenza all'oggetto di studio. Però va bene, va bene, dai Natalia, va là, ecco ho fatto io il questo. Beh, quindi direi che proseguiamo sullo stimolo che ci ha dato Giorgio anche oggi, abbiamo quattro presentazioni, tra l'altro mi sono accorta che la lunghezza del tempo assegnato oggi è un po' più lunga di ieri, però ieri mancava una presentazione, quindi comunque teniamo, direi di tenersi sui 15 minuti di presentazione e poi c'è tempo per le domande, se sforiamo un po' non abbiamo problemi perché comunque c'è tempo. Magari ciascuno dei presentatori si introduce anche brevemente se stesso e direi che possiamo iniziare. Allora la prima presentazione, almeno dal titolo, sembra un po' fornire un cappello generale al tema dell'acqua e del territorio, è di Antonello Podda e Dario Minervini che rappresentano il collettivo per l'economia fondamentale. Vi lascio la parola. Grazie Natalia, buongiorno a tutti e buongiorno a tutti. Io vedo le mie slide però non vedo più voi, quindi datemi una conferma. Buongiorno, ci stiamo. Vediamo tutto. Perfetto, allora, prima di tutto grazie per l'organizzazione di questo panel che è molto interessante, noi ci inseriamo con il lavoro che stiamo facendo col collettivo dell'economia fondamentale, che diciamo è parallelo un po' al tema, il focus è l'acqua. Allora, oggi presentiamo io, Antonello Podda, sociologo del territorio dell'Università di Cagliari e Dario che seguirà me subito dopo, Dario dell'Università di Napoli Chiesi di Cosecondo, Dario Minervini. Il lavoro che vi presentiamo è un lavoro che stiamo portando avanti con il gruppo di lavoro sull'acqua all'interno del progetto dell'economia fondamentale, e i nomi dei colleghi che hanno lavorato su questo lavoro li vedete qui esposti, Edoardo ha esposto, Domenica Farinella, Lorenzo De Vito, C. Sergio Amaro, Tadario Minervini, Fabio Mostaccio, io, Ferdinando Spine e Marco Zorro. Ci sono dei sociologi dell'economia, dei sociologi del territorio, dei sociologi del diritto, perché il tema appunto dell'acqua si presta ad essere studiato, soprattutto dell'acqua a uso civile, a essere studiato da diversi punti di vista. Poi vi dirò ancora due cose sul collettivo. come si fa andare avanti? Ok, immagino che sia andata avanti, sì, perfetto. Ok, quindi perché ci occupiamo dell'acqua? Perché all'interno del collettivo dell'economia fondamentale si studiano tutti quegli asset che si ritengono fondamentali per la vita, diciamo, dell'economia di una determinata regione, sono ad esempio le ferrovie, l'energia, la sanità, l'istruzione e all'interno di questo paradigma anche l'acqua. Quindi tutti quei beni che sono fondamentali per la vita, diciamo, di una determinata regione, quindi dei cittadini che stanno all'interno di questo territorio e che hanno subito nel corso degli ultimi decenni, forme sempre più forti di privatizzazione o di cambiamento della proprietà che non sempre o spesso con difficoltà ne hanno migliorato la fruizione e la gestione. Quindi nel merito della ricerca noi partiamo da un concetto fondamentale. Allora, nella dichiarazione di dubbio del 92 l'acqua ha un valore economico in tutti i suoi usi correnti e dovrebbe essere riconosciuta come bene economico. È nel quadro di questo principio che è vitale riconoscere il diritto di base a tutti gli esseri umani ad avere accesso all'acqua potabile e a risonamento ad un prezzo sostenibile. Che cosa emerge da questa dichiarazione? La differenza tra bisogno vitale e diritto. Un bisogno è come quello del cibo e quindi lo deve acquistare, un diritto è qualcosa di fondamentale che la collettività deve garantire a tutti i membri della collettività. Quindi il bisogno invece non comporta una responsabilità collettiva. Questo discorso è pregnante per l'acqua, perché l'acqua come sappiamo è un bene primario fondamentale. Quando noi parliamo di economia fondamentale parliamo di acqua, parliamo della gestione di sistemi idrici integrati. I sistemi idrici integrati sono tutte quelle strutture che ci consentono di aprire il rubinetto di casa e avere l'acqua pulita. Quindi il sistema di captazione, di tutte le strutture ingegneristiche che ci fanno arrivare l'acqua a casa per poi parlare della depurazione. E quindi tutto questo sistema qui. Da chi ha gestito questo sistema qui? Beh, sì, qualche decennio fa era gestito soprattutto a livello municipale con delle forti differenze a livello dell'azienda del territorio italiano. Tutto cambia con le grandi riforme, riforme diciamo di stampo neonabilista, ad esempio quella della taccia dell'89, dove si ragiona in termini di atto, ossia di un vaccino integrato in cui si preferisce una gestione unitaria e non municipalizzata del sistema idrico integrato, quindi dell'acqua. In Italia questo viene recepito in una forma peculiare con la legge Galli che cosa fa? Crea un monopolo naturale, cerca di incentivare l'economia di scala e un'integrazione verticale, basandosi appunto su questi bacini idrogeografici. Tutto prende forma a livello legislativo con il decreto Ronchi e con tutto quello che ne scaturisce dopo la nascita del forum italiano dei movimenti per l'acqua e naturalmente l'esito del referendum che bocciano queste riforme che spingono prima di tutto alla costruzione, alla privatizzazione del sistema in termini di in-house providing per poi passare all'ingresso dei privati nel sistema di gestione dell'acqua. Ora lascerò a parte questa prefazione in tipo più di natura di politica per poi andare a vedere quanto è complesso questo discorso dell'acqua che noi stiamo trattando. Prima di tutto c'è, noi abbiamo tracciato in questo articolo cartesiano alcune direttrici, il cambiamento da pubblico a privato, quindi da gestione pubblica a gestione manageriale, quindi di mercato, ma l'altra direttrice che ci interessa tantissimo è quella dell'autonomia della gestione, quindi a livello municipale, sino invece a una gestione centralizzata a livello malageriale. Questo asse cartesiano ci complica in realtà molto il discorso, perché abbiamo una direttrice che va dalla demercificazione dell'acqua, quindi proprio l'acqua come bene fondamentale per la vita di tutti, invece alla mercificazione, questo quindi è una prima direttrice di complessità. Capire appunto dove ogni sistema di gestione regionale italiano si pone in questo piano cartesiano, tra demercificazione e demercificazione. Però poi dobbiamo tenere in considerazione anche i processi di finanziarizzazione che sono scatturiti e i processi invece di deconomizzazione e infine i processi di depolitizzazione e ripolitizzazione, quindi quanto è che nascono appunto dai referendum e da alcuni casi studio che stiamo lavorando. Stiamo lavorando appunto su quattro casi studi che non sono messi in quest'ordine casualmente, ma rappresentano diversi livelli di applicazione del decreto Ronchi oppure non applicazione del decreto Ronchi. Il caso di Messina è una gestione quasi totalmente privata, quasi, perché ha delle peculiarità. Il caso Roma è un caso di gestione multi-utility, quindi pubblico e privato insieme. Il caso Sardegna è quello di una gestione pubblica, però tramite una società per azioni completamente in housing. Infine il caso Napoli è quella di una gestione ancora pubblica e municipalizzata, quindi vedete proprio questi quattro casi si pongono in maniera completamente diversa su quel piano cartesiano. Il mio tempo sta finendo, quindi lascerò la parola a Dario per un ragionamento diciamo più fine sul valore dell'acqua e i simboli che stanno dentro il discorso sull'acqua. Grazie mille Antonello. Quindi procedo ora con la condivisione del slide, giusto? Io interrompo la mia condivisione. Allora, vediamo se riesco a farlo bene. Allora, in questo momento io non vedo più nulla, vedo soltanto le slide, quindi mi confermate? Sì, 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 confermiamo. Vediamo, vediamo le slide. Vediamo le slide quelle iniziali però. Sì, sì, no, le sto scorrendo. Voi vedete? Ok, sì, 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 rivediamo le slide. Perfetto, perfetto. Allora, sì, insomma, ringrazio Antonello per aver introdotto questa prima parte della nostra presentazione. Tra, diciamo, gli obiettivi del nostro sforzo collettivo, cioè come gruppo di lavoro su questo tema, c'era da un lato quello di fare un'analisi sostanzialmente delle trasformazioni di governance che si sono avute con il progressivo, come dire, interessamento nel campo del settore dell'acqua, di quei processi di aziendalizzazione e privatizzazione che sono poi alla base di tutto lo sforzo, se volete, analitico del collettivo dell'economia fondamentale, che per inciso non è una cosa che nasce in Italia, ma nasce a Manchester e mette sotto una lente analitica, ma anche critica ovviamente, il processo neoliberale avviato con Thatcher sui servizi di pubblica utilità. E dicevo, da un lato c'è ovviamente l'attenzione agli assetti di governo di questo settore particolare, ma anche di altri, dall'altro c'è chiaramente il tentativo nostro, dei sociologi, perché poi questo è un collettivo multidisciplinare, di andare a fondo e di cercare di capire poi quanto sono forti questi processi di trasformazione anche in termini di simboli, di valori. E per fare questo tipo di ragionamento, chiaramente, dobbiamo provare ad andare oltre, come dire, l'analisi dei processi per esempio di tarifazione, di una utilità pubblica e dei costi che in qualche modo si accompagnano ai processi di trasformazione. Noi sociologi generalmente questo lavoro lo facciamo per mestiere, quindi iniziamo a disaccoppiare quello che è il valore da quelli che sono i valori, secondo quello che in qualche modo ha detto David Stark quando prova a vedere che relazione c'è tra la quantificazione e la commensurazione economica e i valori sociali che si ottengono alla stessa. Allora abbiamo fatto questo discorso anche sull'acqua, lo abbiamo fatto concentrandoci soprattutto su quelle traiettorie e social materiali di valorizzazione, per attenzione, intesa in senso ampio, non soltanto economico, che riguardano sia l'acqua che potremmo definire di tutti, cioè quella che scorre negli acquedotti e che arriva ai rubinetti di casa, con un piccolo approfondimento su Messina, ma anche sull'acqua dei consumatori, quella che acquistiamo nei supermercati, nelle vending machine, ovunque, che accoppia una social materialità interessante, cioè quella dell'acqua e del PET. Potremmo pensare all'acqua e al petrolio che sono entrambi estratti e da cui si estrae valore, ma questa ora è un'immagine così. Dunque, e in questo caso parleremo delle acque e minerali, chiaramente. Allora, veniamo all'acqua di tutti. L'acqua di tutti ha un aspetto fondamentale per quelli che studiano l'economia fondamentale, cioè data per scontata. In generale, tutte le utilità pubbliche che rientrano dentro quello che è il paniere dell'economia fondamentale, cioè quei beni e servizi che danno l'accesso sostanzialmente a una compiuta cittadinanza, sono dati sostanzialmente per scontato. Perché? Perché sono organizzati secondo, dicono i colleghi di Manchester, pipe and cables, cioè strutture, infrastrutture, perdonatemi, sostanzialmente invisibili che consentono a noi di accendere le luci, utilizzare l'acqua, ma voglio dire anche l'istruzione pubblica. La pandemia ce l'ha dimostrato, finché c'è, lì è uno stabile, ci sono dei bambini che entrano, vanno lì e quant'altro. Ci siamo resi conto con la didattica distanza, ad esempio, quanto fosse importante avere una scuola. Oppure ci rendiamo conto che l'acqua è una cosa importante quando per esempio c'è una crisi idrica. Vi parlo dalla piglia e so di quello di cui sto parlando. Allora, veniamo allora all'acqua di tutti e proviamo a fare questo esercizio analitico di, come dire, di scomposizione fra valori e valore. I colleghi che si sono occupati del caso di Messina ci hanno invitato a guardare come sostanzialmente nel dopoguerra la logica sostanzialmente a Messina era quella di evitare sostanzialmente gli sprechi, quindi di considerare l'acqua un bene fondamentale, importante. Chiaramente qui parliamo di spazio rurale e il soggetto sono le famiglie, per semplificare. È chiaro che questo discorso non vale solo per lo spazio rurale. Nel caso di Messina vediamo come le strategie di raccolta e accumulo sostanzialmente erano legate a queste vasche in cui si conservava l'acqua, acqua che veniva utilizzata sia per gli scopi domestici ma anche poi per essere reimpiegata ad esempio nelle campagne. Negli anni 70 con la razionalizzazione della scarsità c'è uno shift, passiamo sostanzialmente verso una strategia di tipo sottrattivo, cioè le persone si installano dei dispositivi per accumulare acqua in maniera quasi privatistica e contestualmente vengono meno i punti di accesso pubblici per le strade, perché la logica è quella dell'evitare gli sprechi. Però vedete come le cose sono abbastanza contraddittorie in questo caso. Quindi ci troviamo di fronte a un valore, nel caso del dopoguerra abbiamo un valore basso dell'acqua, perché è sostanzialmente accessibile, ma a quest'acqua si accompagnano dei valori molto alti, cioè l'acqua vale tanto, non economicamente ma da un punto di vista dei valori. Diverso invece con la razionalizzazione della scarsità, abbiamo un valore alto, perché i cittadini si accordano di quanto costa l'acqua quando la vanno a pagare nella bolletta, ma valori bassi, cioè si inizia a dare per scontato che l'acqua ci debba essere, siccome è quasi sempre gode di scarsa, diciamo viene considerata di scarsa qualità, anche perché le infrastrutture invisibili aiutano questo senso di sfiducia. Passiamo all'acqua privata. L'acqua privata, va bene, qui velocemente alcune grafiche, velocemente per dirvi che sostanzialmente chi si occupa di accountability dell'acqua privata, a differenza di quella pubblica, sono le imprese direttamente. Quindi se volete cercare delle statistiche su fatturati, chi consuma cosa e come, bisogna per forza andare alle imprese alla fonte dei dati e questo non è un elemento residuale. L'acqua dei consumatori è un'acqua che in Italia ha una particolarità, cioè l'acqua privata sostituisce l'acqua pubblica, in altri contesti non è così, perché le acque minerali servono a bisogni specifici. Nel caso italiano molto spesso noi beviamo l'acqua in bottiglia perché non vogliamo bere quella dell'utinetto. Diventano acque non più di casa, di famiglia, ma di acque individuali, entrano nelle borsette e ce le portiamo in giro al lavoro e quant'altro. C'è questa coppiata formidabile che ora non posso sviluppare fra bottiglie T e T, che è un tipo particolare di plastica e l'acqua, ma soprattutto parliamo di una geometria variabile, abbiamo un'infrastruttura mobile, direi addirittura scomparsa quando non serve più, che sono esattamente quelle bottiglie che ci portiamo dietro. In questo caso abbiamo un basso valore perché sostanzialmente l'acqua privata non costa tanto, costa tantissimo rispetto a quella pubblica, ma viene percepita con un costo basso, ma ci sono dei valori associati molto alti che hanno a che fare con la comodità, la trasparenza, la fiducia, la qualità e quant'altro. Vi ricordo che ci sono sempre delle, sull'etichetta delle acque private c'è sempre l'etichetta, come dire, il logo di qualche università, quindi di un'istituzione pubblica che certifica la valutità dell'acqua. Salto questa e lascio ad Antonello. Devi concludere. Sì, sì, Antonello, vai. Sì, allora, niente, concludiamo velocemente, grazie a Davio, niente, giusto per dire che il discorso finale che abbiamo fatto è quello della solidarietà sociale, quindi capire quanto il Covid ha impattato sulle persone che hanno difficoltà a comprare l'acqua e a pagare l'acqua, sia quella privata che soprattutto quella pubblica. E infine, appunto, un aspetto principale su cui ci concentriamo è sul fatto che capire quanto un'istituzione, anche pubblica, si comporta come un privato, quindi quanto una società per azioni in ausono di natura pubblica, in realtà poi ha dei atteggiamenti di tipo di mercato con i soggetti, ad esempio mandare una lettera con l'avvocato per chi è moroso. E quindi questo è il discorso proprio della solidarietà sociale nell'acqua. Quindi, Natalia, per chiudere, quindi, inviterei chiunque di voi ha il piacere a sapere cosa facciamo col collettivo e chi vuole partecipare alle nostre ricerche ed iscriverci così per entrare nel gruppo di lavoro. E niente, vi ringrazio. Grazie. Il tempo non è molto, soprattutto se si è in due, si hanno anche magari prospettive un po' leggermente diverse. Comunque c'è tempo per una o due domande. C'è qualcuno che vuole fare una domanda? Io faccio una battuta. Il vostro intervento mi ha fatto appunto tornare al discorso iniziale. Cioè noi prendiamo un segmento del problema acqua, che è il sistema idrico integrato, e lo dissezioniamo, lo analizziamo con una grande raffinatezza concettuale. Però il mondo della sicurezza idraulica, che riguarda sempre l'acqua, è completamente diverso. E quindi è chiaro che noi dobbiamo trovare un modo, anche proprio penso a queste nostre scienze sociali che hanno aspirazioni ad essere sistemiche o meta-analitiche, di trovare degli schemi analitici o dei framework che possano includere ad esempio i trade-off che ci sono fra la sicurezza idraulica e il servizio dell'acqua potabile, insomma il servizio idrico integrato. Quindi benissimo la vostra analisi e questa suscita interrogativi su come allargarla, come allargarla ad altri segmenti della gestione dell'acqua. Grazie. Volete replicare? Io se posso, un rapidissimo intervento di parte, perché faccio parte del Collettivo per l'Economia Fondamentale, mi occupo in realtà di rendita urbana. Ringrazio tantissimo i collegi che hanno fatto questa presentazione e mi sembra che abbiano in qualche modo risposto in maniera molto efficace a quello che diceva Giorgio all'inizio, cioè l'applicazione all'acqua di frame molto robusti e ampi e generali, cioè che possono essere utilizzati per interpretare diversi punti di fenomeni, ovviamente entrando poi nel merito delle specificità del tipo di materia che si prende in carico. Io di nuovo nella presentazione che hanno fatto sull'acqua ho trovato meccanismi che funzionano più o meno sic e semplici dentro nell'estrazione di rendita urbana, di suolo o su altri fenomeni di cui il Collettivo per l'Economia Fondamentale si fa carico di indagare. Per cui mi pare che sia proprio in quella direzione che va dall'intervento che abbiamo sentito, l'ho trovato molto interessante sul piano analitico e della robustezza generale, per cui vi ringrazio moltissimo. Bene, volete replicare brevemente? In realtà sono più commenti che domande. Sì, se posso velocemente, allora, il discorso, ringrazio Giorgio e i colleghi. Ah, vi ho messo lì un articolo di una giovane... Ti ringrazio Giorgio, giusto per dire che il ragionamento è molto complesso, è quello dell'economia fondamentale e si presta anche a... bisogna avere la lucidità di comprendere anche caso per caso a livello regionale o subregionale degli effetti che hanno avuto questi processi, che poi sono molto diversi fra di loro. No, approfitto per dire una cosa al volo. Noi stiamo lavorando su un volume collettaneo che uscirà, si spera, a breve, e che uscirà in formato open access, quindi questa... avrete modo di leggere questa nostra ricerca, come quella degli altri colleghi, di Simone e degli altri, spero a breve in un... quindi, approfondire appunto il nostro lavoro su un volume, appunto, diciamo, open access che è completamente in linea con la nostra idea di lavoro, diciamo, pubblico, oppure con un'etica di natura, diciamo, pubblica. Grazie. 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 Sì, la questione della sicurezza idrica è fondamentale, così come lo è rispetto a tanti altri settori. Concordo con Giorgio il fatto che vada in qualche modo inclusa dentro i nostri ragionamenti, però io penso che, come dire, la linea argomentativa che abbiamo utilizzato, che si utilizza nell'economia fondamentale, abbia proprio al centro il tema della sicurezza idrica. Il tema della sicurezza idrica è inevitabilmente connesso al mandato sociale che le utilità pubbliche hanno, o meglio, che gli attori che gestiscono le utilità pubbliche hanno. Quel mandato è l'equità, sostanzialmente. Il fatto che ci sia, alla fine Antonello aveva preparato un discorso sulla solidarietà sociale che purtroppo non possiamo fare, ma gli attori che vengono chiamati a gestire acqua, rifiuti, energie e quant'altro, hanno questo obiettivo se vogliamo mantenere l'economia fondamentale come infrastruttura della vita quotidiana. E questo è un fatto politico, è un fatto puramente politico, ecco perché il collettivo dell'economia fondamentale è un po' tra virgolette ambiguo scientificamente, perché si porta dietro un portato ideologico, non mi vergogno, spero che nessuno si vergogni a usare questa parola, che è quello di valutare che cosa significa assicurare l'infrastruttura della vita quotidiana ai cittadini, a tutti, più che ai cittadini, perché poi anche il concetto di cittadinanza può diventare escludente. Quindi assolutamente d'accordo con Giorgio, lo legherei al discorso dei fenomeni di finanziarizzazione che hanno interessato diverse utilità pubbliche. Va bene, grazie. Dobbiamo passare alla prossima presentazione di Caterina Marinetti, se riesci a condividere le slide. Si vedono... Ecco, sì, sì. Perfetto. Magari ci dici qualcosa anche di te? Certo, grazie mille. Grazie Natalia e grazie anche ai colleghi del collettivo che hanno presentato. Davvero molto interessante, credo si ricolleghi molto bene anche con la presentazione insomma che sto per fare, sia sulla governanza delle risorse idriche che su un framework inter- transdisciplinare per l'educazione alle risorse idriche. Allora, io buongiorno a tutti, innanzitutto e a tutte e anche ai colleghi collegati da remoto. Faccio i miei saluti dalla città dell'Aia, già in stagione piena autunnale. Per fare una breve presentazione sono Caterina Marinetti e lavoro come Scientific Project Manager per il progetto New Wave, del quale a breve vi parlerò, e presso la Free University di Amsterdam all'Istituto di Studi Ambientali e il Dipartimento di Politiche Ambientali, dal quale da poco ho iniziato il mio dottorato. Nella presentazione di oggi, dopo una breve introduzione di New Wave, vorrei proporre una riflessione sull'educazione per la sostenibilità, in particolare l'educazione terziaria, quindi parliamo di educazione universitaria e quindi presentare i primi risultati del nostro progetto in tale contesto. e presentare dei prossimi passi. Allora, cos'è New Wave? New Wave è una rete di formazione innovativa finanziata dal programma europeo Horizon 2020 e nello specifico una Marie Curie Action che supporta lo sviluppo della carriera e della formazione di giovani ricercatori, dove per giovani si intende con meno di quattro anni di esperienza in ricerca, con un focus sulle capacità innovative attraverso la mobilitazione fra settori e anche internazionali. Come potete vedere anche dalla mappa, l'ampiezza del progetto è molto internazionale e New Wave offre a 15 ricercatori la possibilità di svolgere il proprio dottorato, nello specifico del nostro progetto presso 10 enti di ricerca e non, in collaborazione con altri partner del progetto. A destra sono elencati i tag, quindi diciamo i titoli chiave dei 15 progetti che potete trovare in dettaglio nel nostro sito. Però, visto che stiamo parlando di sociologia dello sviluppo, ci tenevo in particolare a mostrare gli attori del nostro network e a mandare i miei cari saluti a tutti i colleghi e colleghe che si impegnano sia nella formazione che nella ricerca. Questo è uno screenshot che abbiamo preso durante una sessione virtuale e con un po' di creatività e immaginazione potete vedere la nuova onda della Water Governance rappresentata. Ognuno di loro, come dicevo, fa parte di diversi beneficiari e in collaborazione con altri partner e presto altri in aggiunta. Gli obiettivi del progetto sono principalmente tre. Il primo è quello di rispondere alle necessità urgenti, sociali e ambientali e in questo caso gli scienziati hanno un ruolo importantissimo nella produzione di conoscenze sia rigorose ma anche di approcci analitici che possono aiutare ad andare oltre il mondo accademico e produrre dei risultati attuabili, che è quello di cui parlavamo anche prima. Inoltre New Wave è stato concepito per dare un nuovo impulso alle frontiere euristiche ed epistemiologiche dello status quo della governanza dell'acqua e oltre alla governanza dell'acqua anche lo status quo della politica di governance dell'acqua attraverso un approccio sistematico che unisce coproduzione teorica e interdisciplinare, integrazione di prospettive multisettoriali e anche evidenza empirica contestualizzata. Qui entriamo nel cuore della presentazione. Allora perché abbiamo bisogno di un progetto come New Wave ma soprattutto perché abbiamo bisogno di integrare in un progetto di investigazione accademica e nel campo dell'educazione? Le crescenti crisi idrosociali come ben sappiamo e stiamo vedendo durante questa conferenza richiedono una maggiore capacità di riflettere criticamente sul nostro percorso di sviluppo e per affrontare le sfide sociali e ambientali tutta la loro complessità. Quindi in questo ambito l'istruzione superiore svolge un ruolo chiave nel contesto della transizione sociale per uno sviluppo sostenibile. Il progetto New Wave offre in questo caso una preziosa opportunità per implementare modi alternativi di apprendimento e anche di formare una nuova leadership che può influenzare le azioni sia di oggi perché comunque le persone che si laureeranno adesso in un programma dottorato saranno i primi ad entrare nel mondo del lavoro ma anche per portare delle transizioni a lungo termine. Analizzando il ruolo dell'educazione per una transizione sostenibile SIBER nel 2009 ha analizzato dei diversi percorsi verso la sostenibilità attraverso l'istruzione superiore dove ha messo in luce che gli approcci che si sono basati esclusivamente sul cambiamento del comportamento e lui faceva riferimento a quello dei consumatori in questo caso non hanno avuto un successo perché gli individui avevano bisogno di accesso alle informazioni ma anche quindi scientifiche affidabili e comprensibili quindi il ruolo anche dello scienziato di produrre informazioni rigorose ma anche delle competenze e delle risorse per attuare e diciamo applicare e dare informazioni nel proprio processo decisionale. Come abbiamo visto l'istruzione tradizionale si è mostrata non sufficiente per far fronte alle sfide della sostenibilità e in questo caso l'istruzione superiore per l'appunto in particolare ha un ruolo centrale per sviluppare le capacità dei laureati e dare priorità alle azioni dopo aver bilanciato i costi e i benefici sociali ambientali ed economiche per poi entrare nel mondo del lavoro sia al governo come all'industria che nelle comunità. A questo proposito vorrei introdurre il discorso di educazione allo sviluppo sostenibile. L'UNESCO ha introdotto tali concetto già dalle prime conferenze sull'ambiente e lo sviluppo dalla fine degli anni 80. L'educazione allo sviluppo sostenibile è definita come l'educazione che consente agli studenti di acquisire non solo le conoscenze ma anche l'abilità, i valori e le attitudini per prendere delle decisioni informate e intraprendere delle azioni responsabili per l'integrità ambientale in particolare, la sostenibilità economica ed anche una società giusta. La domanda che sorge spontanea e ovviamente di cui si sono occupati molti ricercatori sono molte, quindi per esempio di quale educazione stiamo parlando, di quale educazione abbiamo bisogno oggi, qual è lo scopo dell'istruzione nell'attuale contesto di trasformazione della società, come dovrebbe essere organizzato l'apprendimento. L'educazione allo sviluppo sostenibile deve impegnarsi principalmente per raggiungere la capacità di pensiero sistemico, competenza anticipatoria, normativa, strategica, di collaborazione ma anche e soprattutto la capacità di pensiero critico, di autoconsapevolezza, e di problem solving integrato. Per raggiungere questo scopo gli ambienti necessari devono essere degli ambienti di apprendimento trasformativo. Che cosa vuol dire apprendimento trasformativo? È quello che mira a consentire agli studenti di mettere in discussione se stessi, cambiare il loro modo di pensare e vedere il mondo, al fine di sviluppare ulteriormente la comprensione di esso, quindi distruggere per ricostruire. Mentre il concetto correlato di apprendimento trasgressivo fa un passo avanti, a me piace moltissimo questo concetto, che afferma che l'apprendimento nell'educazione allo sviluppo sostenibile deve superare ancora di più lo status quo e preparare lo studente al pensiero dirompente e alla co-creazione di nuova conoscenza, dove co-creazione ha una funzione molto particolare e importante. Ma come realizziamo il cambiamento? Quello che vediamo dalla letteratura e soprattutto una rassegna, una review di una letteratura sulle attività educative e di apprendimento per lo sviluppo sostenibile, pubblicato da Alguren quest'anno, mette in luce che l'educazione alla sostenibilità ambientale è un approccio ancora relativamente nuovo e il concetto e i principi ad esso connesso non sono ancora ben implementati nell'istruzione superiore. Questo ci riconduce al nostro progetto, in campo di risorse idriche, ma ancora di più in campo della governanza delle risorse idriche. Ortigara e colleghi hanno pubblicato uno studio che indaga sul contributo dell'istruzione e della formazione nel raggiungimento dell'obiettivo numero 6, dello sviluppo sostenibile, che è quello sostenibile dell'acqua e delle strutture igienico-sanitarie e secondo loro abbiamo bisogno di gruppi di ricerca integrati, compresi scienziati, sociali e naturali, che interagiscono continuamente con gli stakeholders, quindi con le parti interessate e ciò potrebbe migliorare significativamente le possibilità di ricerca per raggiungere i principali beneficiari delle risorse idriche. L'importanza della governanza non è un concetto nuovo, già dal 2011 l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico scriveva che le crisi di risorse idriche sono in gran parte delle crisi di governance e parlava proprio della sempre più evidente necessità di un pensiero e una nuova ondata di pensiero transdisciplinare. In quest'ottica di massima urgenza è bisogno di riconsiderare l'istruzione tradizionale entra già con il nostro progetto di New Wave e nelle prossime slide mi occuperò degli aspetti innovativi del progetto e in particolare affronteremo nuovi orizzonti epistemologici oltre i confini disciplinari, il lato di coproduzione di attività ai prodotti di insegnamento e apprendimento, il coinvolgimento di attori non solo scientifici ma anche non accademici e la partecipazione della società civile sia da iniziative dal basso che top down. Iniziando con il primo vorrei presentare il modulo che abbiamo fatto per le prospettive teoriche sulla governanza dell'acqua, questo è stato il primo modulo per i nostri studenti, quindi 15 ricercatori, che però è stato aperto anche a un pubblico più ampio, le lezioni erano open access. Come potete vedere sono state presentate moltissime discipline relative all'acqua, moltissime prospettive sotto cui guardare la water governance da un aspetto teorico e l'attività ha visto la partecipazione di un pubblico veramente internazionale e transdisciplinare e abbiamo ricevuto più di 1600 registrazioni da più di 112 paesi con una media di oltre 330 partecipanti per sessione. Nonostante poi tempi difficili legati alla pandemia l'evento ha visto veramente un grandissimo coinvolgimento, abbiamo ricevuto anche più di 550 domande in modo molto interattivo e si ha rivelato anche un potente strumento, ha rivelato anche l'opportunità degli strumenti digitali e raccogliendo feedback dai partecipanti sia per ogni lezione che nel corso complessivo abbiamo visto che anche il compendio di letteratura che è stato fornito è stato un passo avanti per chi studiava, si occupava proprio di governanza della risorsa idrica. Per quanto riguarda la coproduzione di attività e i prodotti di insegnamento qui potete vedere elencate delle varie attività che abbiamo fatto, in particolare la prima che ha riguardato una formazione intensiva a supporto dello sviluppo delle proposte di ricerca dei dottorandi ha interessato dei meccanismi di coproduzione e co-learning dove i ragazzi si sono cimentati proprio nell'organizzazione dello stesso training mettendo in luce i loro bisogni, cosa avevano bisogno di imparare, coproducendo le attività e gestendo le attività di training e di apprendimento insieme con i loro tutor e con gli speakers che venivano invitati. Dopo questo abbiamo fatto... Tiene ancora i tre minuti. Perfetto, grazie. Abbiamo fatto anche dei vari seminari di coproduzione e anche altre attività dove hanno interagito moltissimo, quindi qua ho messo questa immagine, lavorare con ma non per. Ci siamo anche occupati di fare delle valutazioni interne proprio sull'apprendimento e qua è importante dire che l'aspetto più importante è il risultato della coproduzione. e ovviamente qua, come avevo detto, l'aspetto del lavoro da casa, da virtuale, che nonostante la fatica, diciamo, della Zoom fatigue, cosiddetta di stare davanti al computer e non interagire in modo personale, ha comunque garantito degli aspetti positivi. Per quanto riguarda il coinvolgimento degli attori accademici, abbiamo visto che finora si sono riscontrati lati positivi e molto positivi per chiunque abbia interagito con loro, perché i progetti sono iniziati da poco, quindi qualcuno deve ancora iniziare la collaborazione, però per chi ha beneficiato di questa collaborazione gli aspetti positivi sono stati quelli di una pluralità di prospettive, un accesso alla conoscenza più contestualizzato ma anche più profondo e anche una serie di advice, quindi di conoscenze dalla parte dell'industria che ha reso ancora più evidente il loro impatto sociale della loro ricerca. Per quanto riguarda la partecipazione della società civile, quindi delle comunità e delle iniziative dal basso e degli approcci top down, questa è ancora in fase di collezione e di raccolta dati, visto che i progetti sono implementati proprio ora. Per arrivare alle conclusioni e gli aspetti presentati, la conclusione maggiore di questo studio iniziale della mia ricerca è che gli aspetti presentati dal progetto innovativi rientrano nel quadro dell'educazione alla sostenibilità ambientale e possono informare nuove modalità di apprendimento trasformativo per la governanza dell'acqua. La coproduzione è stato uno degli strumenti più potenti valutati per l'empowerment per gli studenti e gli strumenti di coproduzione insieme a momenti informali durante i corsi di formazione hanno creato uno slancio e anche un sentimento di comunità, di gruppo, oltre ad un ambiente favorevole per attingere a energie produttive e questo credo sia il perno dell'istruzione, alla creatività e alla motivazione. Inoltre dal punto di vista teoretico offrire una pluralità di prospettive ha innescato il pensiero critico nell'elaborazione delle informazioni. Come prossimi passi questi sono listati qui ma insomma abbiamo ancora tanto da fare e tanto da scoprire e speriamo di poter presentare ancora risultati successivi nei prossimi convegni. Quindi grazie soprattutto per quanto riguarda alla produzione di leadership. Grazie mille e se avete qualsiasi domanda o volete seguirci noi siamo New Wave e ci trovate un po' dappertutto. Grazie. Grazie. Grazie Caterina, sei stata perfettamente nei tempi, quindi c'è tempo per una o due domande. Ma io allora, no c'era qualcun altro che voleva? No no vai, non vedo nessuno mai. Allora grazie Caterina, finché parlavi mi veniva in mente, sai è un po' un vizio o un tic dei sociologi quella di fare diciamo l'analisi di quello che viene, l'analisi critica di quello che viene presentato. Allora mi veniva in mente il discorso di Powell e di Maggio sul fatto che in certi campi organizzativi, questo dell'acqua è un grande campo organizzativo, ci sono le scuole. Le scuole sono uno dei tre fattori che provocano isomorfismo istituzionale, adesso sono terminologie che forse ci sono estranei, ma i nostri amici sociologi le sanno ammenadito. Allora voi da questi prestigiosi centri di ricerca olandesi state creando una nuova scuola, secondo me, una nuova tendenza rispetto alla gestione dell'acqua che ha una lunga tradizione autocratica, cioè di un settore in mano esclusivamente ad esperti. Voi con questo concetto di coproduzione mostrate una nuova tendenza educativa. Questo è molto interessante, molto interessante diciamo volendo essere critici e maliziosi ci potremmo chiedere se è una nuova forma di dominazione culturale questa dell'idea della partecipazione, perché appunto la coproduzione poi magari è fatta anche di assimmetrie o di nuove ortodossie, non so se mi spiego, cioè c'è una nuova ortodossia nella gestione dell'acqua e questa viene in qualche modo imposta. Però è straordinario vedere la rispondenza internazionale che avete, cioè avete gente da tutto il mondo, soprattutto dai paesi emergenti, che chiede di partecipare se hanno sbaglio. Quindi vuol dire che anche questo è molto interessante. Quindi insomma è a metà commento, metà domanda. Grazie. Se vuoi rispondere, poi c'è una domanda di Dario Minervini. Sì, certamente, grazie. Grazie mille Giorgio per la domanda e anche il commento è molto interessante. Sì, io credo che proprio nel... Perché se non sbaglio Caterina sei un'ingegnere tu, vero? Sì, io da training sono... Le nostre categorie le suonano un po' così, vabbè dai. No, diciamo che è proprio... io sono io stessa frutta di un'istruzione interdisciplinare, però partita dall'ingegneria ambientale e poi studi tecnici in gestione delle risorse idriche. Fortunatamente ho avuto anche la possibilità di studiare per un semestre antropologia culturale e sociologia dello sviluppo all'Università di Leiden e poi fare la mia ricerca di tesi in Sicilia sulla governanza delle risorse idriche, più specificatamente strumenti politici per far fronte a carenza idrica in agricoltura. Quindi, diciamo, ho un po' anche testato con mano il territorio italiano. Però, sì, per rispondere alla tua domanda, io credo che il fatto stesso di lasciare aperta ad alte discipline la partecipazione incoraggia molte più persone ad entrare nel dibattito, quindi a far parte. Quindi la partecipazione che abbiamo visto nei nostri corsi è perché noi abbiamo cercato veramente di dire, mettiamoci insieme, cerchiamo di collaborare. Se poi non è per diventare, diciamo, mantenere un'expertise, quindi una competenza, è importante. Ma anche essere in grado di conoscere quello che ci succede intorno, quello che fanno i nostri colleghi per poter valutare e pesare meglio le nostre scelte, nel nostro campo di applicazione e di competenza, è molto importante. E io in questo punto ci tenevo anche a dire che noi abbiamo una research agenda, quindi un'agenda di ricerca. Purtroppo, visto il tempo, non sono riuscita a presentare, ma questo è un framework comune, di cui trovate anche più informazioni sempre nel nostro sito, che, diciamo, cerca di mettere insieme vari progetti, perché nel nostro network i 15 ricercatori vengono loro stessi da background diversi, quindi abbiamo ingegneri, abbiamo sociologi, scienziati politici, scienziati naturali, e questo framework offre una conoscenza della governanza dell'acqua basato su tre principali dimensioni, che sono quelle delle problematiche, dei paradigmi e dei modelli. E, diciamo, ogni progetto rientra sotto una di questa dimensione, che poi si ricollega a un'altra dimensione, e noi studiamo anche le interazioni fra le varie categorie, diciamo, fra le varie dimensioni. Quindi, questo framework ci permette di lavorare in modo coerente, pur mantenendo la diversità epistemologica e di discipline, e garantire la transdisciplinarità. Quindi, diciamo, anche questo sì potrebbe essere un modello. Noi speriamo di poter avanzare un modello e un framework che possa essere applicato e replicato, sarebbe ciò che ci auspichiamo, qualora provasse a essere di successo. Grazie. Va bene, Dario? Avevo una domanda? Due, sì, sì. Allora, il primo è un commento, cioè, sento di ribadire quello che ha detto Giorgio sulla nuova egemonia culturale che in qualche modo sta prendendo questi settori. Ed è un'egemonia nella quale però io vedo una, come dire, le istituzioni farsi sempre più evanescenti. Cioè, c'è un grande, si chiama all'appello un pochino tutti gli attori e gli stakeholder, anzi, perché li chiamano così, e le istituzioni però che iniziano a diluirsi in tutto questo. Mi chiedo la responsabilità pubblica poi che fine faccia in questi processi. però è un discorso generale, non riguarda il progetto in particolare. Mentre rispetto al progetto in particolare mi interessa moltissimo il tema della trans o interdisciplinarietà, perché è una di quelle cose che in tutti i documenti di policy ormai sono continuamente ribaditi, auspicati, ma che è una cosa maledettamente difficile da praticare. Noi dopo faremo un'altra presentazione sull'energia, è un progetto Horizon che riguardava proprio questo, cioè i fabbisogni formativi della transizione energetica in quel caso. Bene, il tema della transdisciplinarietà non è un tema, diciamo, insomma, noi sociologi non ci possiamo accontentare dell'idea che ci siano corsi che prevedono diverse discipline. Dobbiamo porci il problema di quali valori epistemologici si sono con queste discipline, quali gerarchie si pongono tra le diverse discipline. Ancora una volta, diciamo, l'invito di Giorgio a guardare in maniera un pochino più, come dire, sì, complicata, no, non voglio dire complicata, però andare a vedere le contraddizioni di queste narrazioni che altrimenti emergono come un futuro auspicabile, immediatamente auspicabile, ma che poi molto spesso viene, almeno nella pratica, o in quelle pratiche che ho potuto studiare, io disatteso, abbondantemente disatteso. Sì, Caterina vuoi replicare o... Certo, certo, no, grazie mille. Questi sono commenti davvero utili, anche per vedere in modo critico l'argomento di cui mi inizio a occupare proprio adesso. Credo questo ruolo della transdisciplinarità, esatto, cioè è un bellissimo discorso, un bellissimo concetto, molto difficile da attuare, però io, da quello che sto vivendo nell'esperienza, anche vivendola da supporter per i ragazzi che lavorano con noi, nella coproduzione noi vediamo proprio di cosa loro hanno bisogno. Quindi, per esempio, nella nostra transdisciplinarità, non solo attori non accademici, però nell'ambito delle acque, cerchiamo di coinvolgere anche chi fa, per esempio, comunicazione in ambito di sostenibilità ambientale. Abbiamo sviluppato, abbiamo concluso a maggio un corso, per esempio, su tecniche di respirazione, che aiutano a ridurre lo stress, a parlare meglio, a confrontarsi maggiormente con, per esempio, nella conversazione con attori anche che sono diversi, che pensano in modo diverso. I talk a cui abbiamo assistito durante le prospettive teoretiche, insomma, offrivano un modo di pensare molto critico, cioè, quindi domandarsi, ma perché? Perché siamo qui? Perché stiamo dicendo questa cosa? Perché vogliamo agire in un certo modo? Perché sta succedendo questo fenomeno invece che un altro? Cioè, apriamo gli occhi. Quindi, in realtà, il fatto di includere il discorso della transdisciplinarità offre, esso stesso, la possibilità di ragionare in modo critico, come non tutti sono tradizionalmente portati a fare. Si vediamo. Però sono commenti molto, molto interessanti. Ho preso nota e sicuramente approfondirò. E qualora volete, ecco, inviare, o entrare in contatto, inviarmi anche dei documenti, sarò felicissima, insomma, di leggere tutto quanto. Grazie. Se vinco delle borse di dottorato, ve li mando tutti, ve li mando tutti. A fare il corso di respirazione. Se vinco, però, se vinco. Però io credo anche che questa parte di comunicazione e di stiminazione svolgerà un ruolo molto fondamentale nel progetto. Infatti abbiamo in programma di sviluppare un documentario, una serie di podcast, quindi per cercare di raggiungere, veramente di sfruttare al massimo questa transdisciplinarità. Va bene, grazie mille. Allora, dobbiamo passare alla prossima presentazione, che è di Simone Tosi, il fiume Olona. Eccomi qua. Allora, grazie mille. Buongiorno a tutti, io sono Simone Tosi, sono del lavoro al Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale di Milano di Cocca. Ho provato a articolare diversamente il titolo rispetto al secco, il fiume Olona, che era scappato dentro il programma, ma va bene così, retoriche, conflitti e politiche intorno al fiume Olona. Non tenderò di legarmi espressamente con molte delle cose che sono state dette adesso, ma credo di aver imparato tantissime cose e aver trovato moltissimi elementi di continuità tra quello che dirò e quello che ho sentito. Però non va avanti. Ecco. Ecco. Allora, io parto da una lettura, se vogliamo, un po' di politica urbana e ho analizzato i registri discorsivi che vengono fatti circolare intorno alla gestione e alle varie tematizzazioni di un piccolo fiume di 70 chilometri o qualcosa del genere, che vorrei descrivervi attraverso la caratteristica della frammentazione. Cioè questo fiume è innanzitutto qualcosa di estremamente diviso. La storia di divisione del fiume Olona è antichissima, non ve la faccio lunga, ma i romani, qualche migliaio di anni fa, hanno deciso di interrompere il fiume. Se voi guardate su questa cartina, tra l'altro un elemento interessante è che non si trova un'immagine del fiume Olona in sé, si trova sempre insieme a qualcos'altro, come se non avesse una vita propria e autonoma. Questo è un piccolo dato etnografico di ricerca. Allora, se voi guardate in questa cartina che io vi sto proiettando, vedete che gli Olona sono due. Ce n'è uno che parte lassù da Varese e arriva fino a Milano. In realtà sottopero entra dentro nella città di Milano. Poi si interrompe. Sotto, più a sud, trovate il fiume Olona meridionale. Allora, questo in realtà all'inizio del Novecento hanno scoperto che si tratta dello stesso fiume ma che era stato interrotto dai romani. Avevano deciso di troncarlo più o meno sotto ro, di portarlo dentro Milano perché gli serviva acqua e a quel punto sono diventati due fiumi separati. Sono rimasti separati, nessuno si era neanche reso conto che fossero idrograficamente la stessa cosa e questo è un primo segnale storico di un fiume che è diviso, è diviso proprio fisicamente. Ma poi il fiume Olona è tante cose perché viene trattato dentro frame ampiamente separati, che ovviamente talvolta si toccano, qualche volta si incrociano, ma che hanno la caratteristica della separatezza come tratto bioindividuato. Allora, da una parte c'è un discorso che viene fatto intorno al fiume Olona nel suo primo tratto, che è un tratto di un fiume scosceso che scava la terra, che scava la roccia, è la valle dell'Olona, che è una cosa completamente separata dall'Olona di Pianura, cioè dall'Olona che parte da Castellanza, qui vedete, diciamo, Rescaldina, per quello che riguarda la macchia lì. Allora, sono due cose diverse, hanno due caratteristiche fisiche differenti, vengono trattati e gestiti da attori differenti, anche se poi c'è un consorzio, come vi dirò tra poco, che tenta di unificarli, e sono due ambienti completamente separati. Questa separatezza sovrappone un altro dei clivage, quello dell'Olona extraurbano e di quello urbano, cioè, in tutto il primo tratto, quello da Varese a sopra Castellanza, il fiume Olona non entra nelle città, le tocca, le lambisce, le affianca, ma non ci entra dentro pienamente. Da Castellanza in avanti, invece, quando diventa anche più pianeggiante, il fiume diventa un elemento interno alla città, che l'attraversa, come nel caso di Regnano, come nel caso di molte delle città che vanno a sud, e poi, sottorò, il fiume sparisce, diventa addirittura un terzo tratto, un tratto in cui il fiume non è più visibile, è tombinato, è sommerso, entra dentro nella città di Milano, per riaffiorare qua e là, più spesso dentro le cantine degli abitanti di Milano, che non sulla superficie della città. Poi c'è un'altra frattura all'interno allo stesso fiume, che è quello tra un fiume che è stato storicamente, che continua in parte, anche se misura minore, ad essere rilevante dal punto di vista industriale, di nuovo parliamo del primo tratto, quello tra Malnate, Varese e Castellanza, in cui il fiume è stato una risorsa importante in tutta la storia della precoce industrializzazione del cosiddetto territorio dell'Alto Milanese, che è un'industrializzazione che ha avuto luogo qualche decennio, forse 50 anni prima della grossa industrializzazione del paesaggio urbano italiano del nord Italia. Mentre nella seconda parte, quella tra Milano e Castellanza, il fiume è essenzialmente una risorsa agricola, cioè qualcosa che serve principalmente per l'irrigazione. Abbiamo detto che lì si arriva al tratto più pianeggiante, il paesaggio si trasforma, e l'ultima frattura che io evidenzio è quella che il fiume attraversa due province, è una cosa molto importante dal punto di vista istituzionale, si parlava prima di quale sia la responsabilità delle istituzioni dentro dei progetti di gestione, quasi a scomparire. Qui non direi che le istituzioni scompaiono, ma si frammentano, cioè quello che fa la provincia di Varese, le responsabilità che ha sulla gestione dell'acqua dal punto di vista della gestione provinciale, è separato e distinto da quello che succede poi per la provincia di Milano, con scarsissima integrazione tra delle progettualità. Provo ad andare avanti. L'Orona ha una pessima fama, ma se voi digitate in Google vi vengono fuori tantissime citazioni per il fiume più inquinato d'Italia, poi non so, ognuno avrà i suoi record. Sicuramente è stato lungamente un fiume assolutamente maltrattato. Come dicevo, è stato considerato un fattore produttivo dentro nell'industrializzazione tessile, cartiere, colorifici, è stato ad alto uso di acqua e ad alto impatto di inquinamento per il fiume. La fortuna, forse, di questo fiume a un certo punto è stata, lo dico con un fare un po' cinico e provocatorio, è stata la crisi industriale. Cioè, quando alla fine degli anni 70, a questo territorio ha cominciato a deindustrializzarsi e passando anche da un territorio assolutamente d'eccellenza e ricchissimo a un territorio che ha cominciato ad avere problemi anche sul piano occupazionale e industriale, il fiume ha smesso di essere così continuativamente maltrattato. È rimasto per un po' come un residuo, come un qualche cosa di cui nessuno si occupava più. Non era più utile per la produzione industriale era morto dal punto di vista naturalistico e è stato lasciato lì. Fino a quando, ovviamente, non faccio una storia troppo dettagliata, con l'insorgere di nuove sensibilità, nuove domande di tipo ambientalistico, di tipo ecologista e di sensibilità post-materialistiche, perché il fiume ha cominciato ad essere al centro di una domanda di una riqualificazione. Proviamo a eliminare... La domanda era essenzialmente togliamoci dal territorio questa cosa orrenda, cioè questo fiume è morto e malconcio, non ci serve più per produrre, ma lasciarlo così non ha senso perché è una ferita dentro nel territorio, che è qualcosa che deprime l'imprenditorialità locale, deprime la dinamica della rendita, come diremo poi. Allora, in questa fase, diciamo a partire dalla metà degli anni Ottanta, ma soprattutto con gli anni Novanta, incomincia una grande serie di intraprese, di riqualificazione del fiume. Il fiume Olona è uno dei fiumi che sta al centro del primo contratto di fiume italiano. Entrano in gioco una serie molto variegata e differenziata di attori. I locali, innanzitutto, prevalentemente comuni, il consorzio del fiume Olona, che aveva una lunga storia di gestione delle acque, era un consorzio molto antoma, che a questo punto diventa un attore centrale nei processi di rigenerazione e riqualificazione del fiume e del territorio circostante, il distretto agricolo del fiume Olona, l'ente per le foreste e l'agricoltura regionale, l'agenzia dell'ambiente, eccetera. Fondamentalmente vengono sviluppate due direttrici di riqualificazione del fiume. La prima è quella che, dal mio punto di vista, è riconducibile al rilancio turistico e ambientalistico del territorio. Cioè, il fiume diventa un ingrediente centrale, molto importante, in un tentativo di rilanciare il territorio, che a quel punto è abbandonato dall'industria e quindi ha problemi di ricollocazione nel tessuto economico globale. Il fiume diventa una risorsa intorno a cui si provano a sviluppare nuove direttrici di sviluppo. Viene riqualificato sul piano, si incominciano progetti di riqualificazione sul piano ambientale, si intraprendono progetti di formazione molto più piccoli, molto più locali di quello di cui ci hanno appena raccontato, e viene fondamentalmente inquadrato dentro un frame ricreativo. Cioè, il Parco del Mediolona, che vedete che è il titolo di questa slide, è un po' in qualche modo l'archetipo di questo spazio retorico di riqualificazione. Facciamo sì che ci sia un territorio che diventa un parco periurbano, utile per i residenti, ma che possa avere anche capacità di attrattività per un pubblico turisticamente più distante, più ampio, e che possa essere inserito dentro nelle reti globali, per esempio cicloturistiche, di passeggiate a cavallo, di archeologia industriale, eccetera. Allora, il primo frame, tipicamente di sviluppo del territorio postmoderno e postindustriale, è quello che ammicca e occhieggia alla riqualificazione, al rilancio turistico, anche sul piano della redditività economica. Il secondo frame lo troviamo leggermente più a sud. Il Parco del Mediolona sta ancora nella parte valliva, di valle di fiume, cioè quello dove ci sono i paesi che si chiamano tutti Olona, ma in realtà il fiume non entra nelle città, Olgiate Olona, Solviate Olona, eccetera, eccetera, eccetera. Il secondo frame lo troviamo, ve lo racconto, attraverso la città di Legnano, che è leggermente più a sud ed è già nella provincia di Milano. E invece il frame di un trattamento del fiume nel quadro di un, lo dico un po' dispregiativamente, di un orpello urbano, di qualche cosa che messo al centro di una grossa riqualificazione urbana può essere prodotto in termini di dinamica della rendita. E' quello che viene fatto nella grande riqualificazione che a partire dalla metà degli anni Ottanta coinvolge il centro storico di Legnano. Legnano era una città molto ricca di industrie, ha un grandissimo cotonificio che si chiama Cantoni, proprio nel centro della città perché era una delle attività principe dell'economia cittadina. Ai tre minuti. Sì, grazie. Viene fatta una grandissima riqualificazione 108 mila metri quadri di fondamentalmente un quartiere centrificato con espulsione di fasce deboli eccetera eccetera. In questa riqualificazione il fiume Olona diventa un ingrediente cardine, cioè diventa qualche cosa che viene riscoperto perché lì era sommerso, cioè era coperto dal cemento e dalle fabbriche, viene riportato in superficie, vengono ricostruiti degli argini e viene costruito una sorta di ecogentrification, diventa l'elemento di una sorta di ecogentrification. È un ingrediente che voi trovate in tutte le brochure di vendita dei 400 appartamenti di mercato gentri che noi troviamo nella riqualificazione della Cantoni. Che cosa si può dedurre portandoci su un piano teorico in maniera molto breve perché sono stato eccessivamente lungo? Tutti gli attori che dalla fine degli anni Ottanta riprendono in considerazione il fiume dentro in una loro progettualità dal mio punto di vista e per le interviste e le analisi di documenti che abbiamo svolto continuano a utilizzare delle retoriche assolutamente parziali e che pochissimo dialogano tra di loro. Ci sono una serie di attori direi rigidamente o saldamente arroccati alle loro visioni e rappresentazioni parziali del fiume. In genere queste rappresentazioni e queste visioni dipendono da saperi tecnici. Per esempio un grossissimo conflitto è quello che c'è tra gli ambientalisti hard direi che si occupano del fiume Olona e i promotori di un Olona turistizzato. I primi vorrebbero che nessun essere umano mettesse piede nel parco del Mediolona perché impediscono la proliferazione di specie vegetali o la nidificazione di particolari tipi di uccelli migratori e quindi l'uomo va tenuto assolutamente distante. naturalmente dal punto di vista dei sostenitori dell'ipotesi turistica questa cosa non è praticabile. Non ci sono attualmente spazi di composizione efficace delle diverse rappresentazioni e retoriche che continuano ad essere distinte del fiume. C'è un'eccezione cioè la regione Lombardia soprattutto l'ERSA attraverso anche la sua partecipazione ai contratti di fiume alle varie iniziative è probabilmente l'attore che maggiormente si sta facendo carico di un tentativo di messa a sistema e di interlocuzione di quelle interdisciplinarietà di approcci che è necessaria per trattare il fiume. Un'ultima nota la polverizzazione amministrativa evidentemente non gioca a favore e soltanto la regione riesce un pochino a fare da cappello che diventa all inclusive rispetto che prova ad essere all inclusive rispetto ai trattamenti un'ultima nota un po' negativa forse eccessivamente trovo che ci sia una certa continuità tra il modo in cui il fiume Olona dall'Ottocento in avanti è stato trattato come un fattore nella produzione di un territorio esattamente come un macchinario come un ingrediente della produzione e la forte permanenza del frame economico che continua ad essere quello che caratterizza la gestione del fiume cioè i territori che sono interessati all'utilizzo turistico per un rilancio del territorio del fiume ne fanno sostanzialmente una questione di finanziamento del territorio cioè di capacità di attrarre risorse economiche nello stesso modo nei territori urbani come dimostra la riqualificazione della Cantoni il fiume Olona è un elemento un fattore produttivo dentro nella antica dinamica della rendita posso concludere così? grazie 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 per questa affascinante storia di fiume che si inserisce appunto all'interno delle storie che abbiamo sentito anche ieri riprendendone alcuni elementi interessanti c'è qualche domanda? male allora faccio io allora Simone complimenti perché hai un caso ideal tipico finalmente qualcuno che parla di gentrificazione è uno dei cavalli di battaglia un po' della sociologia militante della sociologia urbana militante per per 30 anni e nessuno ha trovato casi italiani i casi italiani di blue gentrification tu finalmente anche se nella piccola legna hai trovato il caso quindi complimenti complimenti forse però anche tu hai un bias urbano infatti hai parlato a lungo della frammentazione ma la parte finale di questo fiume che mi pare scorra in aperta zona agricola è un po' trascurata nella tua analisi ecco è una ragione così diciamo di vicinanza o di pigrizia intellettuale nel senso che tu conosci meglio la parte alta oppure c'è un più grave bias culturale che non ci fa che non ci permette di vedere la parte finale che poi è quello che io tratterò poi nel mio intervento insomma nelle zone più rurali beh la pigrizia è uno dei miei vizi maggiori e la prossimità non è solo intellettuale ma è anche geografica dato che io abito a Busto Arsizio cioè nella parte in cui la valle Olona finisce quindi è vero che ho parlato di quello che conosco meglio ma è anche più al centro del dibattito nel senso che il pezzo di pianura è più tradizionalmente regolato nel senso che lì l'uso è prevalentemente agricolo e l'antico consorzio del fiume Olona che da centinaia di anni si occupa di gestire le acque per uso irriguo ha in qualche modo mantenuto una sua agency e una sua egemonia sulla gestione delle acque lì senza grossi elementi di rottura cioè lì continua ad essere un uso agricolo regolato tendenzialmente mutatis mutandis secondo le consuetudini e le esigenze che la produzione agricola dell'area periurbana milanese ha bisogno ma c'è anche il fatto che non è un ampio tratto perché subito a ro quindi poco sotto il pezzo vallivo entra immediatamente comincia subito ad essere tombinato quindi lì il problema principale era quella l'immagine che io ho messo del 19 settembre l'ultima inondazione cioè pochi giorni fa il fiume continua ad esondare più lì a valle cioè diciamo dopo la fine della valle il problema principale continua ad essere percepito in termini di esondazioni cosa che è meno grave nella parte più scoscesa perché è meno dentro le città eccetera eccetera e poi sicuramente c'è un mio bias intellettuale nel senso che io mi occupo prevalentemente di sociologia per quanto valga la distinzione urbana e delle città che non di quella dell'ambiente e solo grazie al tuo invito sono mi sono ritrovato ad occuparmi poi di anche di aspetti collaterali di questa cosa grazie e c'è una domanda di Dario Minervini c'è la mano alzata sì se c'è tempo la faccio sì sì vai vai allora no la mia una curiosità più che altro volevo sapere se lungo tutto il corso di questo fiume ci sono poi pratiche chiamiamole così alternative o di resistenza al modello di regolazione che ci hai raccontato mi viene in mente questa cosa perché generalmente quando si parla di acqua il primo riferimento che uno ha in mente sono i laghi di Elinor Ostrom quindi le forme di gestione alla commons mi chiedo se ci sono esperienze anche puntuali insomma in cui delle comunità provano appunto a stabilire delle forme di regolazione diverse no non credo che sia un territorio dove siano particolarmente presenti forme di usi alternativi quello che io ho registrato che noi abbiamo registrato nella nostra ricerca è stato soprattutto un grosso allineamento degli stakeholder locali e frammentati alle politiche locali in genere intraprese dai comuni o da piccoli da piccole aggregazioni di comuni per vantaggi parziali cioè sono piccoli attori per esempio la società di canotaggio di un piccolo paese che si addentella si aggrega all'attore locale che gli porta più vantaggi rispetto alla propria pratica oppure l'associazione di pescatori che ha una derivazione con un laghetto per la pesca sportiva allora le forme di aggregazione sono molto magari sono esagerato nella mia critica al territorio in cui abito però sono molto strumentali cioè sono molto finalizzate a portare a casa vantaggi di breve periodo aggregandosi agli attori maggiormente in grado di fornire vantaggi sono un po' generoso ho una visione un pochino cinica però quando parlavo di frammentazione di mancanza di visione di insieme è proprio che non emergono voci che rimettano in discussione un nuovo framing pur con gli allineamenti dai frame precedenti eccetera eccetera del fiume le poche versioni radicali sono in genere quelle di tipo naturalistico ma sono davvero tendenti a versioni radicali ed estremistiche che sono come dire dirompenti come si deve usare un termine che è stato usato poco fa ma che in genere fanno davvero fatica ad allinearsi agli altri frame il loro carattere di eterodossia rispetto al mainstream è talmente accentuato e radicale che in genere diventano soltanto spine nel fianco i cui apporti non riescono ad essere integrati nei progetti di policy non so se ho risposto con una visione un po' fosca del mio territorio grazie questo mi riallaccia un po' anche alla ricerca che ho fatto io io ho studiato l'ADIG a Verona e anche lì ci sono queste forme di però secondo me appunto effettivamente forse hai una visione un po' troppo critica perché secondo me queste forme appunto tipo il canoa club il rafting sono possibilità creano possibilità di socializzazione nuova con il fiume e meno radicali di appunto istanze come che una volta creare un parco naturalistico in modo che è forse una forma più rigida di di rivalorizzazione del fiume quindi forse ci sono delle forme alternative di rivalorizzazione anche per quanto micro e non così radicali insomma sì sì hai perfettamente ragione e so di essere una lettura del mio territorio che a volte un po' mi sfinisce per cui hai ragione attualmente non si integrano nelle politiche cioè i progetti non hanno questi attori come degli stakeholder importanti sono di solito sono appunto degli addentellati che provano a portare a casa risorse ma questo non vuol dire che io non riconosca la possibilità che producano un cambiamento soprattutto sul piano culturale probabilmente in archi di tempo più lunghi allora qui c'è un altro discorso dal punto di vista di quella che in un tempo si chiamava coscientizzazione io credo che comunque tutte le forme di uso civile del fiume possano nel lungo o almeno forse nel medio periodo portare dei benefici che faranno sì che sorgano politiche anche più integrate e più ampie quindi condivido la tua lettura e rivedo la mia visione grigia ok grazie bene adesso last but not least abbiamo la causa di tutto questo seminario quindi Giorgio col suo contributo beh sono molto contento intanto perché Natalia è scesa in campo cioè invece che fare il freddo chair woman è scesa in campo anche lei con la sua critica a uno dei relatori molto bene però veramente quest'ultima relazione mi dà il destro intanto perché resto nella zona cioè resto in Lombardia e poi perché appunto chiama in causa diciamo l'efficacia dell'azione sociale dell'azione sociale insensolato di attori piccoli del terzo settore come potrebbe essere appunto i canoisti o pesca sportivi o altro in contesti rurali quindi anche la mia domanda la mia domanda ultima che ho fatto era un po' viziata era un po' condizionata dalla relazione che avevo in mente allora la domanda è proprio lì a cui Simone ha già dato una risposta negativa fondamentalmente l'olona non è un catalizzatore o lo è in maniera molto frammentata segmentata lui ha detto che gli stakeholder tradizionali fondamentalmente monopolizzano tutto e quindi si mantiene una frammentazione se non addirittura un emergere di una certa rendita ecco io invece ho cercato di vedere mi sono stato molto colpito da questo piccolo fiume che si chiama chiese che pochi conoscono che ecco si trova vedete vedete ecco addirittura in questa cartina ho dovuto aggiungere io la parola chiese è questo che io sto seguendo con il cursore spero lo vediate mi sentite vero? sì perché allora c'è un po' un audio un po' non buonissimo però allora voi avete chiuso avete chiuso la posso aumentare il volume allora vediamo è già quasi al massimo ma forse dipende dal fatto che sei lì sì qui c'è un'aula che ha un rimbombo terribile è quello allora comunque si capisce capisce dai l'italiano ecco vedete il chiese nasce in Trentino sotto la damello attraversa tutta la provincia di Brescia e poi si butta sull'olio quindi un po' l'ipotesi che io ho fatto è se il chiese se il chiese sia un'entità o fisica un ente fisico ambientale poi anche sociale che crea aggregazione sociale mobilitazione ambientale in particolare in contesti in contesti semirurali l'ho chiamato semirurale perché capite la Lombardia ha una parte agricolo rurale ma anche questa che corrisponde alla parte meridionale è puntellata di aree industriali anche addirittura di distretti industriali quindi non si può parlare di un rurale in senso tradizionale però l'idea è quella tradizionale che appunto per richiamarci alla dicotomia urbano-rurale nelle campagne la mobilitazione la protesta la coscientizzazione tutte queste cose che riguardano poi i movimenti ambientalisti siano di bassa intensità perché prevalga un localismo anche nella protesta oppure delle forme irrazionali di protesta il cosiddetto ribellismo urale comunque ecco appunto questo è il motivo dal quale sono partito vedete la zona parliamo della pianura sud orientale o della pianura orientale Tukur della Lombardia è una zona grosso modo che va appunto dall'olio dal fiume olio fino al mincio questi sono sempre i fiumi qual è ecco come vi ho già detto appunto i caratteri alcuni caratteri territoriali questa pianura ha diverse pressioni ambientali molto forti che sono tutto il percolamento degli inquinanti della zona centrale molto industrializzata e molto urbanizzata ha molte discariche ha molti allevamenti intensivi di bovini suini discariche infrastrutture eccetera l'idea di fondo l'idea di fondo è quella di vedere vabbè dopo vediamo insomma comunque la scintilla è stata il fatto che intorno ai chiese è nato un tavolo delle associazioni che amano il fiume chiese e il suo lago di idro ha un nome lunghissimo questo tavolo ma lo merita perché in effetti è una cosa inedita infatti quando ho saputo ho avuto notizia di questo della formazione di questo tavolo che raccoglie associazioni sono 19 adesso attualmente che raccoglie associazioni dal Trentino fino alla provincia di Mantua e quindi addirittura interregionale è una cosa inedita inedita tra l'altro è un fiume appunto che è fuori da radar perché pochissimi anche in provincia di in provincia di di Brescia anche se appunto solo i geografi conoscono questo fiume e ovviamente gli abitanti gli abitanti allora l'idea qual era? era quella di vedere se confrontando con gli altri fiumi la pianura lombarda è ricchissima avete visto l'olona ma appunto lì nella zona di Brescia ne scendono ben quattro che sono l'olio il mella appunto il chiese e poi il mincio quindi sono zone di una ricchezza straordinaria d'acqua quando noi ci confrontiamo a livello internazionale con altri paesi la pianura padana è qualcosa di incredibilmente si parla di materasso d'acqua allora l'idea è quella di intanto io ho fatto una rassegna che adesso certamente è impossibile qui sintetizzare però vedete ho cercato diversi approcci diversi approcci con la loro chiave di lettura il loro elemento base l'evento catalizzatore questa è un po' la novità se volete analitica che ho scovato in alcuni autori americani e appunto l'azione collettiva che invece fa parte di una grandissima tradizione direi delle scienze sociali che è spiegare le ragioni dell'azione collettiva ovviamente questo è una ricostruzione che io ho fatto per capire quale può essere l'apporto di diversi approcci alla spiegazione della mobilitazione socioambientale o dell'azione collettiva in campo ambientale e in campo fluviale nel senso stretto vedete che dopo ogni approccio non parliamo di teorie ma appunto di approcci ha i suoi anche i suoi limiti e quindi poi ho tentato di fare una sintesi come vi ho detto l'elemento di novità che per certi aspetti è teoricamente banale qui ho in stanza con me sto attento a come parlo perché ho in stanza con me il professor Luigi Pelizzoni che insomma di queste cose se ne intende e vedete questo è l'idea del vento catalizzatore cioè i fiumi sono dei catalizzatori della protesta dell'azione collettiva della mobilitazione della costruzione di nuovi scenari sociali umani ecco e quindi questa idea del catalizzatore dell'evento però quindi di qualcosa di molto contingente quindi prendendo questa idea di evento catalizzatore e un po' questi approcci che vi ho detto nasce questo framework che io vorrei applicare al caso dei fiumi della pianura orientale Lombarda ecco ho preso vedete insomma uno schema che ha delle frecce a doppio senso nel senso che appunto prima si parlava di coproduzione eccetera è evidente che i fenomeni sono ricorsivi e spesso circolari e quindi questo in sociologia va molto bene però ci crea anche qualche problema poi nel ricostruire la linearità la processualità ma perché se poi è tutto circolare non si sa mai da che parte iniziare comunque insomma queste sono il framework anche qui il sorvolo perché poi alcune cose per voi credo o per chi studia i movimenti ambientalisti sono molto molto comuni ecco veniamo invece al punto il punto focale allora come capire se la la mobilitazione intorno al chiese è qualcosa di estemporaneo qualcosa di eccezionale qualcosa di casuale o se invece ha dei fattori strutturali che la possano spiegare perché poi si parte da un'ipotesi zero da un'ipotesi iniziale che queste aree rurali non abbiano mobilizzazione e tutto sommato anche l'intervento di Simone precedente ha un po' confermato questo cliché lui ha detto sono un po' queste associazioni dei cercafondi ecco adesso analizzo ma il senso che voleva dare poi Natalia un po' corretto ha detto no potrebbero avere dei potenziali di cambiamento comunque qual è cos'è che emerge adesso queste sono tutte le vicende le vicende che toccano il il chiese allora capite l'idea è questa nell'economia nell'economia della mia spiegazione molto sofferta perché è un paio d'anni che ci sono sopra questo caso del chiese e effettivamente le spiegazioni finora erano sempre molto insoddisfacenti ora questa idea degli eventi catalizzatori quindi che siano delle vicende che sono anche molto indipendenti dai singoli attori dalle singole organizzazioni anche molto potenti come potrebbero essere le organizzazioni che presiedono la gestione dell'acqua o della sicurezza idraulica una serie di eventi per dire la legionella no c'è stata un'epidemia di legionella con 200 morti e pare che essi sono le cause le ricerche le indagini sulle cause sono attensate sul chiese sul fiume e qualcuno ha ipotizzato che sia il primo caso al mondo in cui la legionella si sviluppa in ambiente aperto perché appunto la legionella ha delle caratteristiche perché si sviluppa con i condizionatori con i sistemi chiusi insomma ecco e quindi una cosa di una rilevanza e anche gravità eccezionale dopo per fortuna le altre due estate non è successo nulla però questo e quindi ci sono anche gli studiosi gli epidemiologi che sono al lavoro per capire e questo è un evento insomma un evento evidentemente avrà le sue cause però ricollegarlo con altri fattori è molto molto difficile ecco dopodiché c'è quello che ha scatenato o rafforzato la mobilizzazione lungo il chiese è questa idea balsana scusate la terminologia ma balsana di far confluire le acque nere le acque fognarie del Garda del basso Garda Bresciano nel bacino del chiese costruendovi portandole dentro portandole nel bacino del chiese con delle condotte e costruendo i depuratori nel bacino del chiese apriti cielo questi dicono ma scusate espressione che non è proprio educata perché volete portarci la vostra merda da noi ecco tenetevela voi secondo il principio no che bisogna che ognuno trovi le soluzioni ai problemi ambientali in casa e quindi questo è un fattore che adesso ad esempio sta impegnando questo tavolo delle associazioni sta impegnando in una maratona di presidio della principale piazza di Brescia notte e giorno da 20 giorni questi sono sotto i balconi del potere locale e prefettizio per protestare contro questa idea balzana ripeto di fare una condotta che svalica che passa fa un piccolo svalica insomma le colline moreniche del Garda e va a finire nella valle del chiese ecco allora cosa è successo? sto finendo credo sì dunque negli altri tre fiumi non ci sono casi di questo tipo cioè fra l'altro forse è un caso addirittura nazionale questo di queste associazioni che riescono ad unirsi nel nome del fiume nel nome dell'assoluto del fiume negli altri tre fiumi che sono molto simili per struttura uno un po' più lungo uno un po' più questo tipo di mobilitazione non esiste addirittura l'ipotesi è che il fatto che ad esempio ci siano dei parchi naturali funzioni al contrario cioè l'istituzionalizzazione della protezione della natura produce un depotenziamento della protesta mentre lì non ci sono né contratti di fiume né parchi naturali e questo probabilmente non dà nessun sbocco a delle esigenze a dei bisogni locali e quindi li porta alla protesta infatti sapete che tradizionalmente la protesta la mobilitazione avviene quando le istituzioni non recepiscono delle domande che vengono dalla base vedete qui ci sono andate le proteste anche proprio di popolo di bambini famiglie ecco che protestano su questa allora allora dunque le conclusioni potrebbero cioè perché il bacino del chiesa è un'eccezione allora i fattori strutturali quelli tradizionali della sociologia non funzionano perché le quattro aree capite sono grosso modo tutte sulla sulla bresciana non sono troppo così diverse fra loro da poter pensare che una sia più capitalista l'altra meno una sia più acculturata e l'altra meno e quindi prende corpo prende ala l'idea che questi eventi eventi più o meno casuali abbiano prodotto abbiano prodotto una una mobilitazione e quindi le conclusioni la ricerca è in corso di due anni come dicevo perché la domanda la domanda di ricerca non si riusciva a trovare una risposta adesso forse con questo schemino che mette assieme le condizioni gli eventi catalizzatori e l'azione collettiva forse forse ci siamo questi autori americani che l'hanno scogitata hanno un background naturalistico sono dei forestali sono dei naturalisti che si avvicinano alle scienze sociali e prendono alcuni spunti e magari costruiscono uno schema che è più adatto delle nostre complicatissimi ragionamenti o schemi che usiamo solitamente questo tavolo dura da diversi anni e quindi la durata la resistenza fa capire che forse ecco la loro azione non è così episodica quindi ci sono degli eventi che hanno scatenato degli eventi catalizzatori il fiume fornisce una grande identità o è un'identità costruita insomma va bene e quindi ecco siamo a questo punto per vedere se questo caso è veramente un'eccezione nella mobilitazione rurale del nord Italia grazie va bene sì credo sono stato nei tempi ecco a morire tirare lì alla è tirata lì sì sì vediamo te adesso va bene dai ho ricevuto l'applauso del professor Belizzoni qui in aula eh ragazzi non l'abbiamo sentita bene e vi saluto a tutti grazie anche solo Caterina forse non lo conosce ciao ciao Luisi va bene abbiamo anche queste note queste note diciamo relazionali che sono importanti nel contempo eh allora come sempre le interventi di Giorgio sono abbastanza sfidanti e vediamo se c'è qualcuno che osa fare una domanda Dario c'è il lavoro la parola ma io parlo sempre quindi no no dopo lui ormai ti ho tirato il ballo eh non puoi e poi vediamo anche Caterina cioè abbiamo un confronto internazionale non possiamo far brutta figura che dice ciao a tutti ciao semplicemente per no anche questa discorsa della combinazione dei fattori contingenti e dei fattori strutturali diciamo è fin troppo elegante nel senso che riesce a combinare capra il problema sarebbe quanto contano i due o che combinazione c'è tra i due forse no perché cioè alla fine uno deve dire c'è un elemento di casualità che fa sì che ci siano per esempio delle particolari persone che riescono a funzionare cooperatori incondizionati e sono quelli che incontrano in più su tutto il resto oppure no oppure invece c'è un elemento strutturale che fa da catalizzatore cioè non so se quindi sì scende cioè è ovvio che si comprende che c'è che non è mai solo strutturale o mai solo casuale ma di interessante sarebbe capire qual è va bene allora rispondo subito a lui perché ovviamente avete capito la sua qualità è quella di fare delle critiche pesantissime in maniera molto elegante come dire il modello fattori strutturali più fattori eventuali così insomma casuali è fin troppo elegante cioè facile bisognerebbe invece cominciare a dare corpo a questo e qui in effetti in effetti allora c'è la risposta se volete che non è banale secondo me ma che è statistica se tu riesci a trovare un certo numero di casi che si sono comportati in quel modo e li metti e li compari invece con altri in cui quella combinazione fra fattori strutturali e fattori eventuali non è avvenuta adesso io ad esempio ho tentato nel piccolo Olio Mella Mincio e Chiese evidentemente sono quattro fiumi che sono molto simili fra loro hanno proprio una morfologia anche simile perché scendono tutti dalle Alpi e poi alla fine confluiscono un po' però è evidente che bisognerebbe prendere altri casi in giro per il mondo e vedere la combinazione a livello statistico perché poi noi invece andiamo con singoli studi quindi e poi avete capito dopo se andiamo nel dettaglio la cosa diventa complicatissima perché la la legionella la legionella è legata ad esempio la causa che hanno individuato puntuale è l'inquinamento prodotto da dei da dei frighi di di grosse industrie perché se avete presente il Bresciano come è fatto è praticamente tutta un'industria insomma quindi c'è un fattore strutturale pesantissimo perché si sia prodotta lì e non altrove può darsi che qualcuno dice perché i prelievi a uso irriguo e a uso idroelettrico sono così forti che hanno reso l'acqua stagnante e quindi hanno creato le condizioni ideali per lo sviluppo della della legionella Dario sì mi sentite sì ok allora dunque io ascoltando Giorgio sono tornato indietro di parecchi anni perché ho pensato al vento che ho studiato quando tanti anni fa ho fatto una ricerca sulla installazione di un inceneritore in Bassi di Cata e torno a una mia vecchia ossessione cioè capire cosa fanno questi fiumi o venti come attori dentro i nostri scenari e un pochino va nella direzione del discorso che è stato appena fatto cioè questo fiume cosa fa quando diventa un attore politico addirittura nel territorio in cui agisce nel caso in cui avevo studiato io un vento per esempio diventava la direttrice lungo la quale poi si sarebbero distribuiti gli effetti negativi dell'inceneritore quindi banalmente l'inquinamento atmosferico e questo tipo di agency andava a mettere insieme creava un'alleanza di comuni che si in qualche modo si opponeva alla costruzione di questo inceneritore immagino che anche in questo caso come agisce il fiume chiaramente dentro il contesto in cui andiamo a insomma a ragionare ha una una sua rilevanza cioè cosa fa il fiume come attore nel vero senso della parola insomma e quindi sì in realtà è più un commento è un commento analitico se vogliamo che ci porta a includere nuovamente gli attori non umani dentro quegli scenari che i sociologi studiano a volte può essere utile pensare alla loro agency ma guarda hai molta ragione e infatti cosa fa cosa fa il fiume scorre scorre infatti parrebbe banale pensare che in questo suo scorrere abbia sia un fondamentale agisca da elemento identitario e di unità sociale ma così non è così non è perché proprio anche il caso prima dell'oloma lui Simone ha usato il registro della frammentazione cioè il meta frame suo è che il fiume è spezzettato e addirittura c'è un pezzo anche che si vede poco che appunto abbiamo detto quello a parte sotto allora ecco forse questi questi del però dopo sai io sull'agency sugli attanti vado cauto perché allora potremmo dire io non ho introdotto il discorso del lago il discorso del lago perché a monte cioè tutta quella protesta lì è nata attorno al lago d'Idro perché sopra c'è un piccolo lago che è molto meno famoso ovviamente del lago di Sé o del lago di Garda o di Como credo che non lo conosciate neanche fra l'altro Caterina il lago d'Idro è monopolizzato da sempre dagli anni 70 dagli olandesi che hanno fatto una vera e propria colonia lì quindi una cosa interessantissima questa e la protesta è cominciata lì allora se non è agency comunque è evidente che ci sono diversi elementi che in alcuni casi fanno sì che il fiume sia un catalizzatore magari l'abbinamento con l'ago e la questione è che ad esempio il mincio ha il Garda sopra e l'olio ha il lago di Séo quindi ha dei laghi molto più importanti dietro a monte allora forse il senso di minorità però qui andiamo sempre sugli umani più che sugli oggetti questi cos'è che ha provocato questa unità a mio avviso il senso di minorità di essere calpestati nella loro dignità ambientale sociale da bacini aggregazioni istituzioni più grandi e loro si sentono come i figli di un dio minore questi del lago d'idro piccolo lago piccolo fiume massacrato da tutte queste esigenze addirittura quelli del Garda gli vogliono portare lì le acque reflue ha provocato una reazione d'orgoglio che li ha spinti ad unirsi e in questo senso quella strumentalità che diceva Simone prima gli alleati più importanti sapete chi sono? I pesca sportivi i pescatori i pescatori è chiaro che qualche ambientalista storce il naso i pescatori insomma alla fine sono come i cacciatori non è che siano proprio dei grandi protettori della natura però i più grandi alleati ad esempio in Trentino Natalia in Trentino sono le associazioni di pesca sportiva che sono delle autentiche potenze perché hanno dei numeri che ormai sapete che le associazioni di massa sono finite e quindi queste associazioni hanno dei grossi numeri e anche un business è anche un business è vero quindi insomma è da indagare questi questi fenomeni minori questi località minori che è interessante che noi ad esempio in Lombardia si ragiona sempre su Milano si ragiona sempre su Brescia ma invece queste località periferiche hanno dei fenomeni sociali molto interessanti che vale la pena di studiare sì va bene direi che dobbiamo chiudere più o meno puntuali comunque è stato un seminario molto ricco direi che ha dimostrato che i sistemi idrosociali sono effettivamente un ambito molto interessante per la sociologia che può essere anche diciamo un ambito da cui sviluppare categorie analitiche nuove quindi ringrazio tutti per aver partecipato ringrazio Giorgio per aver stimolato questa discussione sui fiumi e basta probabilmente ci vedremo prossimamente con la pubblicazione del libro Giorgio ci saranno un'altra occasione magari sì no ma attenzione che abbiamo il libro del collettivo prima esce il libro del collettivo sull'economia fondamentale ah è vero quello lo aspettiamo con ansia quindi sì è vero ci sarà il primo volume di film e città che dovrebbe uscire a giorni a settimane che riguarda il nord Italia in cui diversi di voi hanno collaborato e adesso ci siamo spostati nel nord nel centro Italia e quindi Dario preparati perché ti arriverà la richiesta di l'arena mano per il sud per questa ricerca con grande piacere anche perché i nostri fiumi sono ma non ci sono bene grazie a Cristina che insomma si è unita dall'Olanda bene ciao a loro arrivederci a tutti ciao a tutti ciao grazie mille ciao 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 ciao